La giornata missionaria mondiale prima di salire al cielo dice di me sarete testimoni e poi dice anche dove? Gerusalemme, San Maria e fino ai confini della Terra. Di me sarete testimoni, non semplicemente parlerete bene di me o racconterete tante cose di me, ma sarete testimoni. L'essere testimoni non comporta soltanto parlare, raccontare, dire. Comporta coinvolgersi con tutto se stessi, con la propria persona, con la propria vita. Non è solo la nostra mente, il nostro intelletto che deve essere testimone di Gesù, ma è tutta la nostra vita che deve essere testimone di Gesù. È con la vita che si testimonia, più che con le parole. Ed ecco allora che abbiamo voluto tradurre questo invito di Gesù ad essere suoi testimoni nel titolo Vite che parlano. Le nostre vite devono parlare di Gesù. Le nostre esistenze devono parlare di Gesù. Devono essere testimonianza. Vite che parlano. Perché questo parlare? Perché volevamo anche entrare in sintonia, mantenerci in sintonia con il cammino ecclesiale della Conferenza Episcopale Italiana e tutta la Chiesa Italiana che vive in questo anno il secondo anno di ascolto nella fase del sinodale, del cammino sinodale italiano, mentre il cammino del Sinodo Universale già va avanti con altri sviluppi. Il cammino sinodale della Chiesa Italiana prevede in questo un secondo anno di ascolto. Metterci in ascolto. Ecco il sottotitolo delle nostre giornate. Rimetterci in ascolto. Un ascolto attento di testimoni. Di testimoni le cui vite ci parlano. Per imparare anche noi ad essere testimoni, a fare in modo che la nostra stessa vita possa essere una vita che parla. Ecco un po' in sintesi diciamo spiegato il titolo e il tema di questo ottobre missionario. Di me sarete testimoni, cioè invitati a fare in modo che le vostre vite siano vite che parlano. Ci rimettiamo in ascolto di tante vite che parlano. In questi giorni avremo vari incontri, varie testimonianze anche di persone che ci parleranno con la loro vita e impariamo anche però a fare in modo di essere noi stessi missionari veri perché anche la nostra vita possa essere una vita che parla. Come suggerimento biblico ci è venuta un'illuminazione un qualcuno che ha fatto della sua vita una vita che parla e ci è venuto in mente San Paolo. San Paolo che negli Atti degli Apostoli ma anche nelle lettere spesso racconta di sé in particolare la sua conversione la raccolta ben tre volte perché non per farsi bello ma perché la sua esperienza di vita vuole essere una vita che parla vuole essere una testimonianza e quante volte lui dice fate come me imitate anche me ma non perché io sono da imitare è Gesù da imitare ma perché perché la mia vita ha uno spessore ha un significato e vorrei che voi foste come me e San Paolo lo dice anche in alcuni momenti vorrei che foste come me grazie a tutti Grazie a tutti.